Cappellini 2017 si rifà al mondo dei colori, al mondo dei materiali, perché ritengo che sia sempre più difficile inventare nuove forme, ma si possono dare a forme già consolidate nella nostra memoria e le immagini completamente nuove, appunto utilizzando colori nuovi, texture nuove, materiali nuovi. Una collezione estremamente eterogenea, disegnata da designer provenienti da varie parti del mondo, in cui ho voluto giocare al limite tra design e decorazione. Questo limite diventa sempre più labile e quindi quest'anno ho proprio voluto giocare il decoro da una parte unito al design dall'altra parte. Il primo protagonista di questa collezione è Mille, che è una collezione di divani che si rivolge a punte millennial, alle nuove generazioni. Sono degli elementi componibili che possono assumere diverse funzioni, possono essere utilizzati come divani, come isole per sdraiarsi, come letti e una serie di accessori dai sacchiappelli e piumini arricchiscono questa colorata e contemporanea collezione. Quisi è una collezione di contenitori giocati da volumi molto architettonici, arricchiti poi da materiali diversi, oltre ai legni, a legni laccati, lucidi opachi, possono essere completati con dei cristalli colorati, trasparenti, con dei marmi e altri materiali. Una specie di Lego architettonico che avrebbe di comporre un mobile a proprio piacimento. Un prodotto di punta della collezione di quest'anno è Brodery Tiger, perché mixa il rigore del disegno quasi nord europeo di questa poltroncina rigerevole all'utilizzo di materiali preziosi, il velluto per la seduta e lo schienale arricchiti dalla presenza di un ricamo, di un ricamo che raffigura una tigre. Ecco direi che quindi questa rappresenta veramente la sintesi tra decoro e design.